Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City in apertura la politica cittadina con la grave crisi nell'esecutivo di Torre del Greco a distanza di una settimana dall'azzeramento della giunta. La città è ancora senza assessori. Intanto il governo è a lavoro sulle nuove misure che entreranno in vigore a partire dal prossimo 16 gennaio. Consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, giornata nera per Torre del Greco. Ieri si sono registrati infatti quattro decessi e ritornano i vaccini in Campania, confermarlo le immagini delle fiamme gialle che scortano il carico verso le strutture ospedaliere. Sempre la Guardia di Finanza ha donato mascherine alla Croce Rossa italiana, sequestrate ad un imprenditore. In chiusura la cronaca con i carabinieri di Ischia che hanno arrestato un assessore comunale di Procida per estorsione aggravata. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Ancora caos per l'azzeramento dell'aggiunta comunale di Torre del Greco. Dopo la drastica decisione presa dal sindaco Giovanni Palomba giovedì 7 gennaio, la città è ancora senza assessori. Il primo cittadino l'aveva annunciato come un atto dovuto, dato il giro di boa dei due anni e mezzo dalle elezioni. Ma più passa il tempo, più risulta evidente una crisi nell'esecutivo. Sabato la prima riunione della maggioranza per prendere decisioni sulle nuove nomine. Ma la seduta si è conclusa con un nulla di fatto. Anzi, la riunione è stata più volte interrotta dalle polemiche, sfociate poi in un vero e proprio alterco con offese al primo cittadino. La città del Corallo è ancora senza esecutivo e spaventa un simile vuoto in un periodo tanto complicato. In piena emergenza pandemica, in un anno che parte con una delle più gravi crisi economiche mai affrontate, mentre imprese chiudono ed i disoccupati aumentano, i cittadini devono assistere inerti all'incertezza dell'amministrazione pubblica. Serve una politica attiva, vicina ai problemi della popolazione, in grado di agire e fare scelte decise e cruciali. Invece, si fa un passo indietro, discutendo su nomi e incarichi. Siamo preoccupati, la città sta morendo abbandonata a se stessa. Così la CGL riassume le preoccupazioni di tanti cittadini. La speranza e la richiesta di molti è che questa situazione di incertezza porti, almeno, alla nomina di assessori competenti per il settore che dovranno amministrare. Un'ironia triste che una cosa del genere vada sperata e non sia data per scontata. Il governo continua a lavorare sulle nuove misure anti-covid da inserire nel prossimo DPCM e che dovrebbero entrare in vigore a partire dal 16 gennaio. Il ministro Speranza evidenzia che senza la stretta di Natale, ora avremo numeri diversi e spinge per modificare gli indici di rischio per facilitare l'ingresso in fascia rossa e rancione. Scontro sul divieto all'asporto per bar e ristoranti dopo le 18. La scelta sarebbe stata ribadita nel corso della riunione con le regioni nel quale sono state illustrate anche le altre misure. Conferma per tutte le zone della regola che consente a massimo due persone di andare a trovare a casa parenti e amici. Stop alla mobilità tra le regioni, anche tra quelle gialle. Istituzione di una zona bianca, con restrizioni minori o addirittura assenti, per dare un segnale del lavoro che si sta facendo e che consentirà di entrare in una fase diversa in tempi però più lunghi. Sta arrivando un'impennata di contagi dopo Gran Bretagna, Irlanda, Germania. Sta arrivando anche da noi. Non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici. Avverte intanto il premier Giuseppe Conte al Tg3 parlando del Covid. A Torre del Greco sono 43 le nuove guarigioni registrate ieri, di cui 42 dall'isolamento domiciliare e uno dal regime ospedaliero. Certificati anche 38 casi di positività al Covid-19, di cui uno in regime ospedaliero e 37 in isolamento domiciliare. Attestato anche il passaggio di un soggetto positivo dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Comunicati ulteriori quattro decessi di soggetti classe 1930, 1939, 1940 e 1946. Muta dunque il bilancio dei contagi a Torre del Greco. Sono 306 gli attuali positivi, di cui 281 in isolamento domiciliare e 25 ricoverati, 2.396 guariti e 79 deceduti. Sono 40 i cittadini di Castellamare di Stabia risultati positivi al Covid-19 nel periodo dall'8 all'11 di gennaio, su un totale di 351 tamponi lavorati. Registrate nello stesso periodo anche 21 guarigioni. Sale il numero di persone che hanno contratto il Covid-19 a Castellammare. Sono 2.989 i contagiati totali dall'inizio della pandemia. A San Giorgio a Cremano il sindaco Giorgio Zindo comunica 5 nuovi positivi registrati negli ultimi tre giorni. Sono 55 i cittadini attualmente positivi nella città. I vaccini ritornano in Campania. Domenica 10 gennaio il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, aveva annunciato che tutti i vaccini contro il Covid-19 arrivati erano stati somministrati. Il governatore ha informato immediatamente il commissario Arcuri, chiedendo nuovi rifornimenti. Fortunatamente la risposta è stata altrettanto tempestiva. Oggi le nuove dozi di vaccino sono già arrivate nella nostra regione. A confermarlo, i video della Guardia di Finanza, in cui vengono mostrate le pattuglie delle fiamme gialle intente a scortare i furgoni DHL contenenti il prezioso medicinale. Le immagini in questione mostrano un carico partito dal centro di smistamento di Casandrino e diretto in varie strutture ospedaliere tra Napoli e Pozzuoli. La questura di Napoli sta coordinando tali operazioni con un quadro che regola ogni spedizione e la relativa scorta. Da questo prospetto emerge che i vaccini verranno nuovamente consegnati in tutto il napoletano e che quindi la campagna di vaccinazione potrà riprendere senza interruzioni. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha devoluto in beneficenza circa 30.000 mascherine per la collettività alla Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli. Tali dispositivi sono stati sottoposti a sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli all'esito di complesse attività investigative coordinate dalla sezione di criminalità economica e condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. Le indagini hanno interessato un imprenditore partenopeo dedito alla commercializzazione di giocattoli che in concomitanza con l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica ha destinato parte delle sue attività economiche al commercio di dispositivi di protezione individuale. I prodotti rinvenuti nei locali aziendali, oltre a riportare la marcatura CE ingannevole, erano anche accompagnati da certificazioni apparentemente rilasciate da enti riconosciuti in ambito comunitario che a seguito degli immediati accertamenti investigativi svolti dalla Polizia Giudiziaria ne hanno disconosciuto la genuinità. Infatti i certificati rinvenuti riportati riferimenti tecnici e normativi solo apparentemente corretti e il logo CE riprodotto in maniera ingannevole attestavano fraudolentemente le conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme comunitarie e nazionali. Le mascherine sequestrate, sottoposte ad analisi da tecnici e medici dell'Aso Napoli 1 Centro, sono state declassificate a prodotti per la collettività, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legge Cura Italia e pertanto sono risultati utilizzabili dalla collettività stessa per la riduzione del pericolo da contagio da Covid-19. A conclusione delle indagini, la Procura della Repubblica ha ritenuto di disporne la devoluzione gratuita al Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana. I carabinieri della Compagnia di Ischia hanno dato esecuzione ad una misura di custodia applicativa degli arresti domiciliari emessa dall'ufficio GIP nei confronti di Carannante Antonio, assessore comunale di Procida, ritenuto responsabile di tentata estorsione continuata e aggravata commessa in danno di un imprenditore 65 anni del posto. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli ed effettuate dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Ischia hanno permesso di ricostruire che il predetto aveva rappresentato all'imprenditore di denunciare presunti abusi edilizi, qualora questi non avesse consegnato 20.000 euro ad una sua cliente, proprietaria di un immobile confinante con il fondo della vittima. Nel corso dell'attività investigativa, eseguita anche con attività tecniche, è stato verificato che, dopo il rifiuto dell'imprenditore, sono stati eseguiti vari sopralluoghi edili sul cantiere, sino a giungere al sequestro, poi non convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli. E' altresì emerso che l'indagato, approfittando della sua qualità di pubblico ufficiale, sollecitava ed esercitava pressioni sui rappresentanti degli uffici comunali competenti per l'edilizia in relazione a pratiche di alcuni suoi clienti. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo i nostri contatti utili, l'email redazione chiocciolatvcity.it o il numero di telefono 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale. Grazie a tutti.